Signore, dovrebbe dare un'occhiata. Dove l'avete trovato? L'abbiamo tirato fuori dall'acqua. Allarme rosso. Armi cariche. Preparatevi al fuoco. Ma cosa... I detriti generati colpiranno l'intero emisfero. Non si sa ancora che cosa abbia colpito Hong Kong. Mio Dio. Perché non ci hanno uccisi? Che diavolo ci state facendo? Se cinque navi fanno questo... Che faranno cinquanta o cinquecentomila? Siamo forse di fronte all'estinzione del genere umano? Suoi ordini? Non affonderemo senza combattere. Fuoco! 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 Fuoco!